Per tutti quelli che sono stati almeno una volta nella loro vita, per tutti quelli che quest'estate andranno a ballare a forma intera, per tutti quelli che sono stati almeno una volta nella loro vita, non che ho mai avuto un'altra volta nella loro vita, voglio queste canzoni mani sulle mani no vederà più vengono la faccina gli amici in colibri giro pizza buon pericolo stanno arrivando una bottiglia di moia ad ogni tavolo avete capito bene lo spieghiamo a noi per festeggiare insieme per dirvi grazie per questa stagione fantastica come la siete prato succederà più almeno per me chiamare il proprio ora non succederà più se non per me vuol dire sta insomma succederà più almeno per me allora ragazzi lo sapete che ci fa il culo tutte le settimane per questo locale Antonio Gregori che è quel signore lì che è il proprietario glielo fate un fottuto applauso che rischia sempre lui per farci divertire vai vado i selene ivana spagna queste bottiglie le offriamo noi ragazzi